E' già stato avviato in Sicilia dal Presidente della Regione Nello Musumeci, nella qualità di Commissario Delegato dello Stato per l'emergenza ucraina, il coordinamento territoriale per la gestione dell'accoglienza dei profughi. Nel corso della riunione operativa che si è svolta a Palazzo d'Orleans, insieme ai nove prefetti dell'isola, agli assessori, alla famiglia Scavone e alla salute razza e al capo della protezione civile regionale Cocina, sono state definite le prime azioni organizzative per la gestione del flusso migratorio dall'Ucraina. Stiamo valutando l'opportunità di coinvolgere anche gli enti intermedi per l'accoglienza, ha detto Musumeci. Definirò questo aspetto con i rappresentanti dell'URPS e dell'ANCI, poiché ritengo che in questa fase, oltre che alle prefetture, da un punto di vista delle competenze, serva un riferimento in ogni provincia. Nei prossimi giorni lavoreremo per definire le azioni sistematiche e nel frattempo seguiamo con attenzione la tendenza dei flussi. Al momento si tratta di numeri sporadici, ma occorre monitorare da vicino per adeguare l'offerta alla domanda, prestando particolare attenzione alle procedure sanitarie da adottare in via prioritaria. Un aspetto questo non di poco conto, in un momento in cui la pandemia non è stata affatto superata. Il sistema di sanità pubblica della Regione, ha spiegato non a caso Ruggero Razza, ha preso in carico, coinvolgendo i commissari straordinari Covid delle tre città metropolitane e i direttori delle ASPE, lo screening e la profilassi dei vaccini per i profughi in arrivo. Fondamentale in questa fase è il sistema di controllo degli arrivi, il censimento della popolazione e la segnalazione all'ASPE di eventuali soggetti positivi al Covid che richiedono un periodo di quarantena. Assicurato il coinvolgimento degli enti del terzo settore, una mappatura regionale delle strutture di accoglienza gestite dagli enti locali e dalla Regione, quali le IPAB, per costruire un quadro della disponibilità ad ospitare le presenze nell'immediato e nel breve termine. Sulla scorta dell'onda emotiva che caratterizza questo momento, ha sottolineato l'assessore Scavone, abbiamo ricevuto tante disponibilità di accoglienza da parte delle strutture del terzo settore che richiedono un coordinamento. Ci stiamo occupando anche dell'organizzazione dei servizi per questi cittadini, fra cui la presenza di facilitatori linguistici e il supporto psicologico. Il coordinamento territoriale tornerà a riunirsi nei prossimi giorni, ma siamo pronti fin da ora, anche grazie ai contatti con il Consolato Generale dell'Ucraina, a far fronte a qualsiasi esigenza per dare conforto ai profughi che fuggono dalla loro terra, ha concluso il governatore Musumeci. Grazie a tutti.